ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi sono qui con un ospite sul mio canale fa strano sempre dirlo ancora non mi sono abituato siamo qui per un video così un po un po particolare nel senso che oggi sono arrivati due risultati abbastanza sorprendenti clamorosi soprattutto il secondo ciao ragazzi soprattutto il secondo vabbè sì dai clamorosi entrambi sì secondo nel senso l'inter comunque ha perso con un udinese in forma tant'è che momentaneamente prima in classifica il monza sulle partite aveva fatto un punto ne aveva perso i cinque pareggiata una con il lecce dove meritava di perdere quindi è andata a vincere con la juve incredibile anche la prima la sua prima vittoria in serie a che poi sono quelle cose che io prima partita pensavo ma vuoi vedere che adesso cioè dopo l'inter questi vanno c'è anche il monza no io no io ma non che ci credevo però sono quelle cose che ero convinto che l'inter non vincesse ero convinto che è convinto del pareggio almeno il pareggio anche se anche io ero convinto che avessero difficoltà però il gol di barella ho detto questo è il classico gol nel senso che anche nel momento difficoltà comunque da calcio da fermo il colpo del singolo e indirizzi comunque la partita quindi anche in un momento in cui non stai benissimo magari te la porti a casa uno a zero invece no l'udinese proprio in forma tra l'altro vanno a mille 3 a 1 anche neanche 2 a 1 3 e ha preso anche il palo cioè io allora una cosa che ho notato in generale è che forse l'inter in questo caso va a perdere quello che ha guadagnato in maniera non dico ingiusta però un po fortunata col torino perché alla fine io ho visto due partite anche simili se vogliamo buttiamoci dentro anche il derby dove per 70 minuti l'inter non dico viene dominata però nel senso lascia il campo l'iniziativa e la pericolosità all'avversario obiettivamente così come diciamo quando l'inter dominano e lì è stata dominata per 70 minuti ha avuto lo scatto d'orgoglio oggi è mancato anche quello oggi è mancato anche quello perché in generale l'inter quello che è noto è che anche nel momento in cui appunto nel momento peggiore come un po adesso ha sempre sta che non è neanche cioè non ha niente a che vedere con la tattica la tecnica è proprio un discorso di di nervi la butta sui nervi e in qualche modo con le capacità storicamente così è nel senso il pazza inter si è una cosa storica una cosa storica fa parte ogni squadra del suo dna l'inter riesce in momenti di difficoltà a tirare fuori l'orgoglio oggi oggi neanche quello e oltretutto mentre si dice lì la butti sui nervi e la vinci qui i nervi fanno l'effetto contrario nel senso che ho notato parte la scenetta di bastoni che quella secondo me ci sta penso che chiunque avrebbe fatto cioè ti toglie dopo 29 minuti almeno un pugno al seggiolino lo tiri io l'avrei probabilmente disaraccionato non sentivo disaraccionato mi vedi che ogni tanto torna da quella volta che mia nonna disse ti devo disaraccionare dal letto però notavo anche che si mandavano proprio un po' a quel paese allora c'è tanta insofferenza anche tra di loro ricordo ad esempio un'azione in cui Danfris poteva dare la barella la crossa al centro sbagliando peraltro e lui sì sembrava ho pensato la stessa cosa io ci sto pensando adesso io ero il Danfris è vero comunque è vero che è un po' che è infatti lì del nostro piccolo in quel torneo il problema era proprio un discorso di nervosismo tra di noi non c'era quell'alchimia che il giorno dopo c'era e in effetti il giorno dopo vinciamo mentre il giorno dopo però anche nel piccolo cioè nel senso la stessa cosa vedi riflessa lì ho visto tanto nervosismo e poi comunque in generale un inter che forse nelle ultime partite non dà quell'idea di di energia non so come dire io l'inter anche ne ho viste tante di partite anche quando c'era conte dove veniva un po' dominata per lunghi tratti però aveva dava quella sensazione prima di tutto di solidità perché poi concedeva qualcosa però comunque era solida e poi quando ripartiva dava sempre la sensazione di far male adesso con la sensazione lì non la dà lato juve stavo per arrivare alla juve secondo me ci sono tanti punti in comune perché ho notato tanto nervosismo anche forse paura anche un po' lato juve nel senso che c'è quella cosa che loro sanno di essere un po' sotto una lente di ingrandimento frustrazione esatto c'è anche l'espulsione di di maria cioè da un giocatore esperto come lui che in teoria forse adesso in questo momento per la juve che viene schierata adesso considerato che non ha giocato neanche bonucci è forse uno dei più esperti che dovrebbe portare un po' di e invece nel senso è il primo a fare quella cavolata soprattutto espulsione arrivata al quarantesimo ma fino al quarantesimo la juve comunque non sta giocando quindi c'è anche questa gravante qua e c'è anche l'incognita allegre adesso perché c'è un contratto pesante facile dire allegri out sì ma non è così in realtà se lo cacci tu lo devi pagare ma perché infatti io dicevo molte situazioni in comune perché comunque anche l'inter cioè io sento molti interisti anche amici parlando così che iniziano ad avercela con inza cioè dire anche lì inza di out però sono due situazioni simili perché al comunque due allenatori con ingaggi importanti e oltretutto inzaghi ha rinnovato il contratto quest'estate sai per caso quanto prende inzaghi adesso esattamente non direi una cavolata di certo non quanto allegri non penso quant'ora alla metà secondo me però comunque penso ingaggi comunque importanti e quindi però però vedi qua c'è anche un grande no un grande la grande questione sugli ingaggi sui calciatori sugli allenatori di quanto è facile darli quando le cose vanno bene di quanto è pesante poi quando le cose vanno male e ce li hai sul grappone io ricordo anche squadre squadre forse proprio l'inter se non ricordo male che addirittura ha fatto un doppio esonero mi ricordo che pagava due allenatori tipo spalletti conte una roba del no spalletti a un altro conte non so comunque c'è stato un periodo in cui ne aveva esonerati un paio e li pagava e che poi è così che fai cioè la stessa cosa ai giocatori no quando poi vai a prendere il parametro zero che in quel momento ti va a riempire con lo slot e per quell'anno sei a posto però quando si parla di progettualità è anche lì il problema che poi se va male li hai tutti sul groppone ed è un po' un errore che anche il milan fece prima e poi c'è già passato ultimamente fa la juve che ultimamente la juve ha sconfessato il suo progetto giovani è andata a comprare dei giocatori cioè se tu pensi adesso al mercato della juve perché poi si dice ecco il mercato che hanno fatto allegri deve vincere ma alla fine del mercato si giocano bremere di maria che comunque buttali via però pogba alla fine l'hai preso lo strapaghi però pur sapendo che negli ultimi anni era stato tanto infortunato sì perché poi non ha giocato pochissimo anche l'anno scorso anche lo stesso di maria tu stai accettando un ingaggio da un anno che già lì già lì no non è bello altro che progettualità almeno due anni è evidente lui si è impuntato anche perché poi anche oggi stava passeggiando in campo nel senso non è che stia brillando forse ha giocato benissimo la prima la seconda partita la prima quando aveva fatto sì poi basta e anche Vlaovic tra l'altro ma quello è lasciato da solo da solo però i quei palloni che gioca secondo me lui è molto emotivo lui sente molto il fatto che se non segna si nervosisce e inizia a fare anche oggi secondo me ha sbagliato tanti appoggi tante scelte proprio scelte al di là del tiro proprio scelte quando c'era da appoggiarla provava a girarsi a tirare altre volte poi vogliono risolverla da soli e quello poi è il danno che forse appunto non sono ancora per dire lui non è ancora a livello di poter dire la risolvo da sola è ancora in una fase dove sta crescendo è forte ma sta crescendo però poi per dire lui alla Fiorentina quando la Fiorentina andava bene la squadra girava bene anche lui girava alla grande probabilmente è uno che subisce molto il nervosismo che c'è nello spogliatoio vabbè ragazzi fateci sapere anche cosa ne pensate voi non prima di aver lasciato un like non prima di aver lasciato un like e di esserci iscritti se non l'hanno fatto esageriamo va bene stiamo sul like stiamo sul like voi esonerereste in zaio allegri come gestireste questa situazione tra l'altro adesso c'è la pausa che non so quanto sia un bene quanto sia un male forse un bene perché peggio di così entrambe no in questi casi è meglio la pausa se una squadra di difficoltà secondo me anche perché abbiamo avuto la dimostrazione che non sempre poi è bello avere una partita dopo un conto puoi avere una settimana un conto è avere tre giorni però hai anche la possibilità di rifarti subito mentre qui stai a pensarci cosa che lo stanno facendo però no è vero è la juve con la salernitana è successo poi lì puttanaio var eccetera però era comunque un episodio perché la partita era giocata male era comunque così e potevano rifarsi subito non l'hanno fatto vero vero quindi alla fine la pausa cade no nel senso che a volte è importantissimo come dici tu i parallelismi che fai con il calcio un po' più amatoriale anche qui coincidono quante volte perdi cazzo voglio giocare subito per dimostrare però poi a volte riesci a dimostrare a volte rischi di affossarti come sta facendo la juve vero vero va bene ragazzi aspettiamo allora i vostri commenti in attesa di questa sera vi ricordiamo che siamo in live sul canale twitch di Dani durante la partita e poi sul mio canale youtube per il post partita commenti analisi soliti no ascolteremo le parole di più no non sta analisi ascolteremo le interviste post partita commenteremo e parleremo magari anche delle altre partite visto che di carne al fuoco ce n'è parecchia ma comunque gran bella giornata questa il Milano quindi riuscirà a prendere pensate tre punti al no perché stai gufando nel mio video ma perché va bene